Parliamo adesso di ipnosi dinamica o benemegliana, e cioè un po' la matrice laboratorio delle tue scoperte, dei tuoi studi. Un'ipnosi originale, un po' diversa da quello che noi siamo comunemente abituati ad intendere per ipnosi, e cioè non tanto fenomeni, fenomenologie o alterazioni dello stato di coscienza, ma un'ipnosi intesa come comunicazione profonda con se stessi e con gli altri, lo vedremo poi anche appunto nelle dimostrazioni e negli esperimenti. Quindi diciamo così la scoperta di una nuova intelligenza delle emozioni. Ma quali sono stati i primi passi? I primi passi sono stati l'aver studiato l'ipnosi tradizionale all'origine e quindi i testi di suggestionabilità logici espressi attraverso la parola o attraverso l'aspetto sensoriale e averli invece trasformati in stimoli non verbali dove in questo caso praticamente il contatto non deve passare attraverso l'istanza logica con i testi tradizionali, verbali, tipo il tuo braccio diventa più leggero, tu cadi in uno stato profondo, né di tipo sensoriale percepisci questi eventi trovandoti in questa condizione, in questa situazione, ma c'è un terzo passaggio, ossia praticamente è quello di mettersi in contatto con il nostro inconscio grazie a questi linguaggi non verbali e interagire direttamente con lui e quindi con la sfera emotiva del nostro interlocutore rapidamente e impostare proprio un vero e proprio dialogo con questo interlocutore tendente, che è l'inconscio dell'individuo tendente a che cosa? Alla realizzazione per esempio di una fenomenologia ipnotica, perché l'evento ipnotico vorremmo precisare non solo si essenzializza nella realizzazione di una fenomenologia tipica dell'ipnosi classica in sostanza, ma si manifesta anche attraverso possibili aspetti comportamentali. Di vita quotidiana proprio. Di vita quotidiana e mi spiego, in altri termini voglio dire che se io sono coinvolto, se io sono innamorato per esempio, agirò in un modo verso questa persona diverso da come avrei agito nei confronti di un'altra persona di cui non ero innamorato, insomma questa differenza comportamentale sta a evidenziare un flash ipnotico in sostanza, ossia un qualcosa che ci permette di agire in un modo diverso, ossia emotivamente, infatti praticamente qualsiasi procedura ipnotica applicata sia durante il dialogo, in questo caso parliamo di comunicazione ipnotica o attraverso una reale induzione ipnotica tendente alle diverse fenomenologie, nasce comunque sempre attraverso un contatto con l'inconscio. Questo contatto con l'inconscio apre immediatamente, noi la chiamiamo sensibilizzazione, apre immediatamente l'accesso all'emotività dell'individuo. Ecco, c'è una presentazione importante, mentre la parte logica rimane vigile. Ah, questa è importante, mentre la parte logica non solo rimane vigile, ma neanche riesce a captare questa comunicazione, è come adottare un linguaggio Morse in sostanza, ecco, al tempo di Marconi, per capirci, in cui praticamente tu senti ta 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 ta, ma la parte logica non è in grado di definire, se non conosci il codice, allora questi codici non verbali permettono di dialogare con l'inconscio senza che la parte logica possa intervenire, cosa che invece è diversamente abbiamo nella comunicazione logica, induttiva, in cui praticamente si passa attraverso la ragione, quindi o si passa attraverso la ragione, o si passa attraverso i sensi, o si passa attraverso l'inconscio, non le percezioni, ma proprio la comunicazione con questo ente che è presente in noi, che è l'inconscio, sarebbe il caso solo di definire un fatto, ma alla fine che cos'è questo inconscio? L'inconscio non è altro che un contenitore simbolico delle nostre emozioni, ossia della nostra memoria emozionale vissuta nella nostra vita, da zero anni fino ad oggi, e quindi potremmo definire che è un'enciclopedia delle emozioni, delle nostre emozioni, ecco, l'inconscio è molto importante questo, perché nel momento in cui accedi all'inconscio, eccedi alle nostre emozioni, come se invece accedi all'istanza logica, in questo caso accedi praticamente alla ragione, quindi si accede alla ragione attraverso l'istanza logica, si accede alle emozioni attraverso l'inconscio. Diciamo che l'atomo base dell'ipnosi benemeliana è la tensione, quindi gli stati di tensione ansiosa, gli stati di tensione emozionale, è proprio nel gioco tra questi carichi che si giocano le dinamiche anche della nostra vita fondamentalmente. Beh, certo, il concetto di emozioni è solo unicamente carico tensionale, se così vogliamo definire, perché l'emozione è un plus valore di un modello comportamentale, in altri termini è quel qualcosa inaspettato che fa scaturire le emozioni, qualcosa di imprevisto, una pratica amministrativa segue attentamente tutto ciò che è previsto, in sostanza e porta a termine un percorso, in questo caso pianificato, ecco, e qui abbiamo tutti i sistemi logici necessari, opportuni per far sì che tutto sia pianificato. L'istanza inconscia invece opera nell'imprevedibile, l'emozione sta in quel qualcosa che non ti aspetti che poteva capitare ed è capitato. Anche perché c'è un aspetto importante, il nostro inconscio non distingue tra piacere e sofferenza, non ha aggettivi, non ha... Diciamo che per lui una buona pratica amministrativa è quella in cui ci sono emozioni, insomma, e quindi non quando tutto è mare piatto e calmo, quando c'è agitazione e quindi questa agitazione può essere prodotta attraverso stimoli accettati anche dall'istanza logica, perché no, esiste anche questa, l'istanza logica non è assolutamente contraria a qualsiasi stimolo emozionale, ma è contraria a certi stimoli emozionali di eccesso quantitativo o se preferite anche qualitativo, basti pensare alle nostre, come posso dire, forme di pensiero, di desiderio che alcune volte diventano, potremmo definire, desideri nascosti in sostanza e in questo caso praticamente turbativa, ecco, quindi l'istanza logica fa una netta distinzione in questo caso tra pensieri buoni e pensieri cattivi. Ecco, l'inconscio invece non fa questa distinzione in quanto un evento che non risponde ai requisiti logici, anzi è l'elemento di maggiore impulso emozionale. vorrei precisare, nel caso in cui non ci sia armonia nella persona, perché se c'è armonia queste due forze vanno di pari passo, ognuno trae nel proprio orticello praticamente ciò di cui ha bisogno, l'inconscio, la rigenerazione delle emozioni e l'istanza logica, il loro appagamento senza creare conflitti di nessuna natura. E quando esiste la distonia dentro di noi, il grande conflitto, quindi in questo caso allora sì che esiste la rapina, l'istanza logica vuole rapinare le esigenze dell'inconscio e l'inconscio quelle dell'istanza logica.